I dati testimoniano di fatto un ritmo sicuramente più veloce. Il numero di processi in arretrato dal 2016 a oggi al Tribunale di Larino sono diminuiti in maniera esponenziale, un lavoro che nella sostanza neppure la pandemia ha bloccato. L'organico è al completo anche se non bisogna abbassare la guardia. Il Presidente del Tribunale di Larino, Michele Russo, traccia un bilancio. I risultati dal suo arrivo sono passati sei anni, un lavoro che non si ferma. Gli obiettivi della programmazione annuale sono stati raggiunti tutti. Siamo in linea anche con gli obiettivi del PNRR. L'organico finalmente il 30 novembre del 2022 è stato interamente coperto. Il Ministero aveva aumentato di una unità l'organico del personale di magistratura e questa unità è arrivata finalmente il 30 novembre e è stata destinata al settore penale che aveva bisogno di un rinforzo per sostenere l'enorme carico di sopravvenienze. Quindi posso dire che attualmente siamo nelle condizioni di poter lavorare al meglio. L'importante però è che l'organico rimanga sempre coperto e che le eventuali assenze o scoperture vengano poi almeno supplite con la pianta organica distrettuale. Ci sono numeri eloquenti, palesi, concreti? Se facciamo riferimento all'arretrato, l'arretrato che esisteva il 31 dicembre 2016 all'indomani del mio arrivo era di 1333 procedimenti che erano stati scritti oltre tre anni prima di quella data. Allo Stato l'arretrato conta 472 procedimenti, l'arretrato ultraternale. Di quei 1333 procedimenti uno solo praticamente è ancora pendente. Processi anche corposi, reati più frequenti la violenza sessuale, i maltrattamenti in famiglia, episodi tristemente ricorrenti e poi i fenomeni estorsivi e lo spaccio di droga. Su questo determinanti sono i confini territoriali, la vicinanza con la Puglia, con aree a forte tasso di criminalità. I reati particolari diciamo che con più frequenza vengono all'attenzione del collegio in particolare sono i reati di violenza sessuale, i reati di violenze familiari. Purtroppo c'è un aumento di questi reati anche in questo circondario. Purtroppo la vicinanza con altre con zone a alta densità criminale e il fatto che si tratta di una fascia costiera quindi facilmente raggiungibile dalle zone limitrofe crea un fermento criminale notevole. In particolare anche i reati di droga sono presenti e quindi abbiamo avuto processi anche importanti che siamo riusciti a chiudere però in tempi estremamente contenuti anche tenendo conto della sospensione dovuta alla pandemia.